Buonasera, eccoci all'agendina politica. Quella che riguarda le amministrative, con noi Enzo Martinez, candidato sindaco, partito democratico che guida una coalizione di centro-sinistra. Buonasera. Udine Città della Morte, tanto per cominciare proprio così, all'attacco. Mettere insieme Città della Morte e gli immobiliaristi è un'operazione un po' ardita, mi pare. Sì, siamo rimasti un po' stupiti, a parte per l'argomento che ha tirato fuori Fontanini, ma anche nel contesto in cui l'ha tirato fuori. A me sembra un rivolgersi alla paura del passato, mi sembra che questa sia la campagna elettorale di molti dei miei avversari e si parla poco del futuro. Addirittura si dipinge una città che non esiste, quindi insomma chi si mette a fare il sindaco forse dovrebbe avere chiaro qual è la vera natura di Udine. Mi sta venendo avanti anche una riflessione di questo genere. Alcuni candidati sindaco di fatto poi, magari con altre intenzioni, denigrano la città. Ripeto, mi sembra che la cantilena di questi mesi sia stata. La città è in degrado, la città addirittura è vista come la città della morte. Ci sono successe delle cose per cui dobbiamo avere paura del passato. Nessuno parla del futuro, io credo che noi si vive in un posto in cui tra associazionismo, volontariato, organizzazione, solidarietà, capacità imprenditoriali sappiamo affrontare qualsiasi problema. L'abbiamo sempre dimostrato e questo ci permette anche di guardare al futuro con una certa tranquillità, visto che il peggio effettivamente per fortuna è alle nostre spalle. Alcune settimane, alcuni mesi di incontri, che sensazioni le hanno dato? Cosa chiede l'Udinese? Il cittadino udinese è quello che magari non segue molto le polemiche sulle massime sistemi? L'Udinese sicuramente ci chiede di superare la situazione che abbiamo vissuto fino adesso, che si parli di sicurezza, che si parli di profughi, bisogna affrontarla con organizzazione, con volontà, questo ce lo chiedono tutti. Ma c'è una richiesta fortissima, che forse è figlia anche di questo, e cioè di avere un dialogo diretto e costruttivo con il sindaco e la sua amministrazione, più del passato. Ho capito, battutacce, le fanno discorsi sulla discontinuità? Sì, lo fanno, ci dicono che non dobbiamo fare come è successo nel passato. Io dico che ogni stagione ha i suoi problemi, le sue questioni, ognuno ha il suo stile. Certamente però credo anche che l'esperienza fatta sul campo sia importante, modestamente l'ho fatta, l'ho fatta nella mia città. Bisogna però avere anche lo sguardo che guarda avanti e vede quali sono le opportunità del futuro. Noi da questo punto di vista penso che siamo molto competenti. Cosa recupera dell'esperienza di Onsel? Certamente noi abbiamo bilanci a posto, voglio ricordarlo, questa cosa qui, perché non se ne parla mai. Abbiamo affrontato le emergenze con grande difficoltà, ma anche con la grande capacità di tenere vicino tutte le parti, dal profetto, dalla polizia, dal volontariato. Adesso quella fase lì, per fortuna, è finita e si tratta di entrare nell'ordinarietà e di fare le cose come sappiamo fare, con attenzione, con organizzazione e guardare, dicevo, punto avanti. C'è qualcuno che dice che conserverà gli assessori di Onsel? C'è qualcuno che ha già chiaro tutto, tranne poi capire che alla prima curva, appena gli hanno offerto di lavorare con Forza Italia, parlo di Bertossi, l'ha fatto immediatamente, salvo poi essere abbandonato. Quindi insomma tutta questa purezza nella scelta delle persone mi sembra fuori luogo. Io credo che prima dobbiamo aspettare quale è il risultato delle elezioni e poi fare un ragionamento tutti insieme. Io ho 160 candidati e la grandissima presenza è fatta di donne e uomini, ragazzi e ragazze nuovi, anche nuovi alla politica. Ha pescato anche in esperienze, come dire, non dico discutibili, ma insomma abbastanza lontane diciamo dallo stato di purezza. Sì, no, no, certo. Dicono il Partito Democratico, voglio dire. Ah, certo, il Partito Democratico. No, purezza non è. Per quello che mi riguarda, certo, ci sono persone che hanno fatto molta esperienza, ci sono anche persone completamente nuove alla politica. Questo è il miracoloso mix che secondo me ci può aiutare a far cambiare marcia l'azione di governo a Udine. Ho capito, senta una cosa, lei dice che bisogna aspettare i risultati. Abbiamo visto i risultati delle politiche e come effetto, a me sembra, è stata un'attemazione del dibattito attorno ai migranti. Prima sembrava ci fosse un'invasione, adesso se ne parla leggermente meno, mi pare, o sbaglio? Purtroppo la politica negli ultimi decenni, in particolare, è fatta molto di emotività. Quindi contano molto gli slogan, contano molto il consenso costruito su frasi e questioni ad effetto. Poi invece quando si parla di amministrare bisogna essere molto concreti, bisogna entrare nel merito delle cose. E anche non è semplice costruire alleanze in politica come in tutte le situazioni della vita. Per cui a partire da Udine mi sembra che l'attenzione debba essere rivolta alle persone, a quello che sanno fare, a quello che possono fare. E se sono capaci di tenere vicino le persone e di avere un dialogo con i cittadini. Questo è il piano sul quale noi stiamo lavorando. Io ricordo titoli cubitali sulla Gavarzerania e sulle sue proposte, vogliamo ricordarle quali sono le sue proposte a proposito della Gavarzerania? Le mie proposte sono anche legate... Comunque sono spariti i titoli cubitali a questo punto. Sì, perché è quello che dicevamo prima. Il tema c'è ovviamente, non è una sciocchezza, è una cosa seria. Io sono contrario alla concentrazione di centinaia di persone in un unico posto, perché i rischi che si corrono sono molto alti. Preferisco che siano diffusi sul territorio, ma come ho detto, purché i numeri rispetto a quello che deve fare Udine siano corretti. Adesso ce n'è il doppio, ce n'è il doppio anche perché i comuni attorno a Udine se ne fregano. Questo è un errore sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista umanitario. Quindi la Gavarzerania è destinata a svuotarsi, perché non devono stare tutti dentro lì chiusi, ma devono essere distribuiti sul territorio, come già succede, con le associazioni che li controllano e li preparano a stare in società. Chi delinque deve essere mandato via. A proposito di microcriminalità, perché la grande criminalità fortunatamente mi pare non la conosciamo, o almeno non è evidenziata nelle cronache, sulla sicurezza cosa le chiedono? Gli Udinesi... Ti chiedono presenza sul territorio di esercito. No, in verità no, perché ogni volta che io propongo questa lettura delle cose ci dicono che non vogliono l'esercito, vogliono la polizia municipale e io dico la polizia municipale che è preparata per stare in strada. Questo è il punto. Quindi adesso ce ne sono pochi di poliziotti, ce ne vogliono di più. Questo è il primo lavoro che fa ovviamente l'amministratore, ma ci vuole gente che sta in strada, che conosce chi vive lì, chi lavora lì e dà una mano a tenere monitorato quello che succede. Questa è la prima richiesta forte che noi abbiamo. Dopodiché insieme al questore possiamo anche studiare delle soluzioni innovative che possono essere utili ad aiutare anche la polizia di Stato, piuttosto che il prefetto, ad aiutarci a nostra volta a monitorare e a tenere in ordine il territorio. La partita della polizia municipale fa tutt'uno con la questione utili, perché si dice con l'Uti sono scomparsi i vigili urbani, con l'Uti i vigili urbani di Udine sono a Tavagnaco, con l'Uti non vanno allo stadio. Una partita su cui si possono giocare tante polemiche e tante anche questioni rilevanti. Con l'Uti mi sembra di capire che quelli che si trovano maggiormente a disagio sono proprio i lavoratori agenti della polizia municipale. Questo effettivamente è successo, però che sia l'Uti che sia il comune è una questione che riguarda la capacità degli amministratori, proprio dei sindaci in particolare, di organizzare il lavoro sul territorio, organizzare il lavoro insieme, in questo caso, alla polizia municipale. Quindi è richiesta una responsabilità per gestire questa cosa. Sull'Uti lei non ha una riflessione ulteriore da fare, per esempio Bolzonello in avvia di campagna elettorale, non so con quanta tempestività, ha detto che sull'Uti magari qualche errore è stato fatto. Sì, ma è vero, io non ho dubbi a dire che qualche errore è stato fatto, ho seguito fin dall'inizio. Io però sono convinto che la politica e l'amministrazione sul territorio lo debbano fare i comuni. L'ente provincia aveva un ruolo nel passato, non è assolutamente all'altezza di stare dietro alle esigenze dei cittadini, dell'economia, del territorio, soprattutto in una regione a piccola densità abitativa come la nostra. Quindi i comuni devono avere la capacità da una parte di gestire ovviamente la propria comunità, ma anche la capacità di stare insieme a risolvere problemi d'aria vasta, perché sono i sindaci che hanno il primo rapporto con i cittadini, non il presidente della provincia. Ho capito, l'epigrafa è qui giace la provincia di Udine, e sotto cosa ci mettiamo? Amen. Perché questo l'abbiamo deciso cinque anni fa, l'abbiamo deciso in consiglio regionale con una larghissima maggioranza, perché è giusto rivedere l'organizzazione del territorio, si può fare in tanti modi, si può modificare l'Uti, però questa volontà di trovare forme più moderne, più contemporanee di gestire il territorio è sentitissima ed è stata sentita. Quindi la provincia, si sapeva che se sarebbe chiusa, forse era meglio chiudere la prima, forse era meglio non fare sgambetti a nessuno e cercare insieme, anche insieme al presidente della provincia, le soluzioni che accompagnassero questo percorso. Non è stato così? Pazienza, adesso andiamo avanti. Ho capito. Torniamo alla campagna elettorale, torniamo, alleggeriamo il discorso. Le testimonianze che più l'hanno colpito, in senso negativo e in senso positivo? Beh, le testimonianze in negativo sono questa sensazione di disagio che sfocia anche nella paura degli udinesi, quando si parla appunto di sicurezza, quando si parla di stranieri presenti in determinati borghi di Udine, in particolare Borgostazione, eccetera. Questo mi ha colpito, secondo me le soluzioni non ci sono, però non è così drammatico come succede in altre città, perché abbiamo un tessuto organizzato che può reagire. Le idee ce le abbiamo, dobbiamo condividerle però insieme ai cittadini. La cosa positiva è invece che, appunto, girando per la città, ci sono giovani professionisti, commercianti, imprenditori, professori, che hanno voglia di investire a Udine. Allora, se c'è un mondo come questo, che vuole investire a Udine, vuol dire che vede il suo futuro nella nostra città, nel nostro territorio. Quindi queste occasioni non ce le dobbiamo fare scappare e vuol dire quindi che non è un disastro come qualcuno dipinge. Ho capito. Ultimamente, nell'intervista che ho fatto, è uscito un altro concetto, che è quello della crisi di vocazioni. Le spiego, non riguarda la Chiesa, riguarda la classe dirigente udinese. C'è una crisi di vocazioni di classe dirigente. È così o no? Noi siamo passati nei decenni da una città che si diceva emporiale, che si diceva solamente capitale del Friuli, anche se poi, in verità, da questo punto di vista, secondo me, non l'è mai stato, ad una città che è diventata la città della cultura, la città della conoscenza, è diventata la città motore di economia. Però, se da una parte l'economia, la conoscenza, la cultura, è capace di auto-organizzarsi, la politica e l'amministrazione hanno fatto delle cose positive ma nell'ultimo periodo evidentemente non ha capito bene cosa sta succedendo. Perché anche Udine si sta modificando. Ma i fondamentali sono sempre quelli. Noi abbiamo bisogno di fidelizzare, di far sì che i giovani in particolare che frequentano il nostro territorio, parlo in particolare degli universitari, trovino qui soddisfazione. Ho capito. Io ho trovato nel suo programma qualcosa di coraggioso, mi pare che sia l'unico che lo mette in campo, ed è il rapporto, si direbbe, laico rispetto a Trieste. Lei è l'unico che parla con interesse della Via della Seta, che è una questione globale, e del Porto Franco. Ecco, ci spieghi in che relazione mette il rilancio di Udine con il futuro di Trieste. Beh, se ci sono delle cose buone che ha fatto l'amministrazione regionale uscente, è certamente l'impianto economico e infrastrutturale che guarda il futuro. Il Porto di Trieste è una grandissima occasione che ha il Friuli Venezia Giulia nel suo complesso. In più abbiamo la fortuna del fatto che la Cina, non parliamo di un sterminato paese a grande propulsione economica, investe su un percorso che ci tocca. E ci tocca storicamente e ci tocca culturalmente. Il mondo dell'economia friulana, che ha sempre dato grande prova di sé dal punto di vista dell'innovazione, è nel mezzo di questi due grandi processi. Il Porto di Trieste ha bisogno della capacità imprenditoriale dei friulani, perché la logistica è una delle cose di cui noi... Il cosiddetto retroporto. Sì, il retroporto significa che quando arriva tutto quel materiale nel porto deve essere scaricato, stoccato, trasportato, messo in ordine o ordinato, lì non c'è nessun altro come il friulano che lo sappia fare. Noi da questo, per fare un esempio, abbiamo bisogno anche che queste cose vengano fatte con il massimo dell'innovazione possibile. Altro elemento che distingue il Friuli da molti altri territori. Quindi io credo che nei prossimi 10, 15, 20 anni qui ci saranno delle occasioni che non ci sono state dal dopoguerra in poi, nemmeno col terremoto, nemmeno il post-terremoto. Quindi le generazioni che vengono qui, che si formano qui, avranno delle ottime occasioni. Quindi se noi abbiamo un'idea di futuro concreto, poi significa che stanno bene i giovani, che stanno bene i genitori, che stanno bene i nonni, stiamo bene tutti. E che fanno figli, perché Udine sarà anche la città dell'infanzia. Ma certo, a quel punto, se i giovani coppi si fermano, lo slancio è verso la vita. Quindi la città dell'infanzia, a parte gli scherzi, la città dell'infanzia per lei ha degli elementi particolari di ricostruzione del tessuto cittadino. Certo, noi siamo una città mediamente che invecchia, come tutto il Friuli. E quindi il grande tema è fermare qui le persone che lavorano, che studiano. E queste cose di cui abbiamo parlato sono certamente delle leve importanti su cui lavorare, per dire, guardate, che di qui a poco, proprio in questo territorio potrete trovare grandi soddisfazioni. Città della cultura anche, non città della morte, città della cultura. E qui la polemica non si è ancora stemperata. Ancora recentemente, Bertossi ha ricordato che Vicenza con Van Gogh ha fatto centinaia di migliaia di visitatori, quindi ha rivitalizzato il tessuto urbano, l'economia, eccetera, eccetera. Lei è qualcuno che dice, magari, sì, anche alle grandi mostre, ma il tessuto culturale c'è già e ha elementi d'eccellenza che vanno valorizzati. Sì, a Treviso, a Vicenza, non lo so, a Treviso sicuramente tutto viene affidato a un signore che si chiama Goldin, che è un bravissimo imprenditore della cultura. viene pagato dal privato, cioè la banca caccia i soldi e certamente se li dà Goldin non li dà al resto del tessuto. Noi abbiamo una storia fortissima di manifestazione di grande richiamo europeo, internazionale. Fra poco c'è il Farist Film per dire, quindi, insomma, siamo capaci di avere un dialogo col mondo, non solo con l'Italia. Quindi, di base, non abbiamo bisogno di nessuno che ci viene a spiegare come si fanno queste cose. Non abbiamo bisogno di Goldin. e quindi non abbiamo bisogno di Goldin. Si tratta, però, questo lo deve fare l'amministrazione, di creare le condizioni per cui ci sia un dialogo nuovo tra tutti coloro che possono utilizzare questo grande giro di turismo che possiamo creare attorno alle cose che già facciamo. Quindi, a partire dalle cose che già facciamo, insieme possiamo ammigliorare l'attrattività nella nostra città. L'ultima definizione di città è quella dei grandi progetti. abbiamo accennato alla relazione con la globalizzazione dell'economia, eccetera, eccetera. C'è anche qualche altro progetto a medio e corto raggio? Oppure la leva è quella, insomma? Sì, perché c'è un elenco di cose che si possono fare, si devono fare anche insieme ai comuni limitrofi. Quindi, diciamo, abbiamo fatto un piccolo elenco che trovate nel nostro programma www.vincenzomartines.com c'è scritto tutto, però la cosa importante che mi preme dire è che abbiamo bisogno anche di un modello, che è un modello europeo, di governance, si dice, europea, per cui si tratta di mettere vicino il comune o i comuni, a seconda della dimensione del progetto, l'università del Friuli, qui dobbiamo chiedere di riversare sul territorio ancora di più le intelligenze e le capacità di cui è capace, e il privato. Il privato ha geometria variabile a seconda del tipo di progetto, perché sono sicuro che possiamo trovare delle soluzioni innovative con reciproca soddisfazione sempre nell'ambito del bene comune. Senta, quella ancora di più che appena detto a proposito dell'università è una critica, è un appunto, è una semplice e banale considerazione? No, è una considerazione molto convinta. Credo che l'università del Friuli ancora non abbia una relazione vera e stretta con il comune e con i comuni del proprio territorio. So che ci stanno ragionando, peraltro, quindi stiamo dicendo più o meno le stesse cose. Io spero che i dipartimenti entrino nel merito delle questioni udinesi e che Udine possa dire ai dipartimenti, guardate che qui c'è materiale per tutti per elaborare innovazione. Del resto ci sono degli esempi che già sono stati concretizzati anche nella città di Udine, quindi insomma proseguiamo un percorso, però facciamolo sistematicamente, diamo l'idea agli udinesi friulani che l'università del Friuli è un tutt'uno col suo territorio. Sta arrivando il 25 aprile, Martínez, allora grandi polemiche ogni anno sistematicamente, la sintesi è stata ultimamente in campagna elettorale, c'era un sindaco divisivo e quindi quella manifestazione aveva i connotati che appunto non portavano all'unità del pensiero se non altro. Beh, il Furionza certamente nei suoi discorsi era molto preciso e a volte ficcante su determinati argomenti e questo certamente ha creato anche dei punti di vista uguali e contrari. Però non c'era solo lui, comunque il 25 aprile ricordo è una grande festa di popolo, dobbiamo ragionare sempre sui motivi del 25 aprile, dobbiamo farlo assieme, la nostra città e il nostro territorio è un territorio pacificato, ricordiamoci questa cosa qui, nel senso più profondo del termine. non vuol dire avere risolto i problemi derivanti dai grandi conflitti, vuol dire avere anche la capacità di cercare sempre la soluzione che ci tiene coesi come territorio. Quindi insomma il 25 aprile è principalmente questo e noi dobbiamo andare a cercare questo. Lei sarà in piazza? Certamente. Benissimo, era Enzo Martinez, candidato sindaco per il Partito Democratico, è una coalizione molto molto articolata, niente, in bocca al lupo, alla prossima. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti.